Andiamo, quindi ci mettiamo seduti, a gambe incrociate semplici, molto bene, non trattiamo di essere seduti sull'istio, quindi possiamo spostare le mantiche, le mani sono innato e sollevo sul torace. Quindi se è poco che abbiamo... Ciao, Scusa. Muto subito perché così cominciamo. Ah, Patrizia è già entrata, è bravissima. E anche Maria di Tata. Ok, ciao Maria di Tata. Ciao. Ok, perfetto. Ok. Allora, stavamo giusto cominciando, ci mettiamo a gambe incrociate semplici per iniziare un po' di respirazione. E visto che veniamo tutti quanti dalla giornata che può essere stata lavorativa o di male, o di te, e facciamo prima di iniziare la respirazione un piccolo adozio. Quindi mettiamo le mani di lato, quindi ispirando allungiamo in su, creiamo l'unquezza nel torace. E poi ispirando, ruotiamo verso destra. E poi ispirando andiamo verso sinistra. E poi ispirando andiamo verso sinistra. Ok, e torniamo e cambiamo l'incrocio delle gambe. Allora, sfruttiamo tre vestigazioni per ogni torsione di attaccione. Ok, ciao Patrizia, ma chissà se riesci un po' dopo a farti imparare. Allora, eccoci. Bene. Allungo quindi di nuovo verso l'alto, creiamo l'unquezza e ispirando per tre, cinque, verso destra. Torno. E andiamo di nuovo verso sinistra. Allungo in su, ispirando. E poi ispirando, ruotiamo. Ok, allora, muto un attimo. Qui, ok. E ripartiamo. Ok, quindi torniamo, potete cambiare l'incrocio di nuovo, metterevi il vostro incrocio più comodo. E iniziamo a fare un po' di pranaglia. Iniziamo con Ujai, che è la respirazione sempre e continua, sia in inspirazione che in inspirazione lenta, nella quale inseriamo fin da subito i quattro tempi. Quindi anche la pausa a pulmone pieno e la pausa a pulmone buono. Ok? Inspiro lentamente e profondamente, resto col pulmone pieno, espiro lentamente e profondamente e poi resto col pulmone buono. Ok? Quindi, proviamo questo ciclo di Ujai. Mi raccomando, se avete bisogno mettete sotto un supporto. Dovete sentire che siete liberi di allungarvi verso l'alto. Maniglinato, allungo la fontanella verso l'alto, creo un ghezzamento lacee, porto il palmo delle mani sulle cosce, ruoto verso l'alto, chiudo gli occhi e avvicino il mento allo sterno. Si state. Proprio. Chiudo. Molte, sono Blood, essere sulle leggere. E' il Green, è vero, questo è vero, tutta la regione, perfetto che ha provato con il trattamento. Non, 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 non. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. anche a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. ok. a tutti. dall'interno. e a tutti. a tutti. e a tutti. piede. e all'interno. e all'esterno. porto il pallone. e all'esterno. e a tutti. e all'interno. e all'esterno. porto il ginocchio. l'esterno. l'esterno. il ginocchio destro. lo porto verso l'esterno. e all'esterno. 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 ok. e all'esterno. porto la fronte. e all'esterno. e all'esterno. guarda. il gomito. ok. ok. e all'esterno. 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 e ritorno. molto bene. Quindi, espirando, vado a ruotare verso sinistra, cammino con la mano lungo la scelta e vado verso e ritorno. Ok, è il momento di cambiare la mano, quindi terrò il game alla sinistra del mattone, ci siamo? Porterò il ginocchio sinistro dentro al desto e mi andrò a sedere nuovamente in goncata. Quindi mi allungherò verso sinistra, tendendo il braccio e andando più avanti che posso. Quando sono arrivato al massimo, ispiro e riporto giù il fianco opposto, in questo caso, il destino. E ritorno. Ok, prendo la cinta e passo intorno al piede, si trova di giusto momento a sinistra. afferro la cinta da dietro e espirando il vuoto verso destra. E ritorno nel centro. Ok, molto bene. Adesso possiamo togliere di mezzo. E ritorno nel centro. Ok, molto bene. Adesso possiamo togliere di mezzo. la cinta, uscire dalla posizione e dovreste prendere, se avete a disposizione, una sedia. ci sentiamo. Cosa rara, ma lo facciamo. Allora, Antonella, non c'è bisogno della sedia necessariamente. Se anche hai soltanto un mattone, due, mettiti sui due mattoni e eseguire la stessa cosa in questo modo qua. Ok? Quindi starai seduta, i piedi a terra, aperti, ma in questo modo. Ok? Per gli altri, ci sediamo e mettiamo i piedi più l'arco del pianale della sedia. e vi faccio vedere prima da qui, espirando andrò in giù e cercherò di mettere il patto delle mani a terra. Se riesco a prendere il patto delle mani a terra, allora, potrò andare a cercare la gamba costitore della sedia e andare a portare le mani all'interno il più possibile verso terra. Invece, per quanto riguarda la nostra sorella Antonella, espiro, richiamo l'addome dentro e cerco di chiudermi sotto le ginocchia. Se siete riusciti a portare le gambe dietro, riportate le mani per un momento in avanti e avvicinate i piedi, cercando di portare le spalle sotto le ginocchia. Ok. Provate ad avvicinare i piedi, non puoi portare le spalle sotto le ginocchia. ok. E ritorno. E ritorno. Ok. togliamo la sedia che c'è stata tutta per questa preparazione. Facciamo l'ultima posizione in piedi prima di metterci sedi. Allora, nell'ultima posizione in piedi, potreste avere bisogno di un supporto per il tallone. lo mettete in questo modo proprio, come un calco. ma se sapete di non avere alcuna rigidità nella caliglia, allora potete provare anche senza. La posizione è malasana, che eseguiremo soltanto nella prima fase, cioè senza andare a portare la fronte a terra e prendere le mani dietro. e ve la faccio vedere due volte, la prima volta di lato e la seconda dall'altra. Quindi con le braccia stese, espiro, piego le gambe, allargo le ginocchia e scendo giù col bacino portando il busto in avanti. Porto poi i cubiti all'esterno, poggio il braccio sulla tibia e ispirando porto lo sterno verso terra. La faccio vedere anche da davanti, da qui. Stendo le braccia, spiro, piego le gambe, separo le ginocchia, vengo giù col busto, porto il gomito sotto il braccio e lo sterno verso terra. Quindi questa è malasana. Se si solleva il tallone, avrò sicuramente bisogno del supporto. Se so di avere la caviglia rigida, uso da subito il supporto. Ok? Quindi proviamo insieme. Spiro, spiro, piego le gambe, separo le ginocchia, scendo col busto in avanti e vado a mettere il gomito sotto le ginocchia. Lo sterno, ispiriamo, lo porto verso terra. Spiro, spiro, spiro. Ok. Torno. È arrivato il momento di metterci a terra. Ancora no, qua sarà importante sapere se ho o non ho la capacità di notazione del fascino. e quindi quando mi metto a terra, se finisco sulla zona lombare o quello. Vi faccio vedere. Se quando sono in campasana, che è in questa posizione qui, non sono in grado di stendere su il busto con leggerezza, perché sono completamente sul dietro del rischio e quindi mi sforzo ma non riesco, avrò bisogno di un supporto. che può essere una coperta, dei libri, qualsiasi cosa avete a disposizione. Se sono in grado, quando sono a terra, in bandasa, di mantenere il busto sollevato senza spingere tutto con le braccia, braccia, ma con le braccia che aiutano il movimento, ok? Allora non ne avrò bisogno. E iniziamo con le mani sotto del ginocchio, sollevando il busto. Andrò a prendere la luce destro con indice medio. Quindi faccio indice medio, prendo la luce destro e poi sollevo il busto e sollevo la gamba. Fisso davanti a me e tiro indietro la gamba come se fosse la corda di un arco. Quindi quest'altra mano non è del tutto passiva, ma sta spingendo. Apro il torace, fisso il punto davanti a me, stendo la gamba e la rivolto a terra. E poi vado dall'altra parte. Torace aperto, con indice medio afferro la luce, tiro su, fisso il punto, porto indietro. Stendo la gamba e riporto a terra. E poi ancora una volta. Afferro, sollevo, fisso il punto, porto indietro. Stendo la gamba e riporto a terra. Ora, se avete un supporto, continuate a usare il supporto e continuate a tenere le mani qua. Se non avete il supporto e siete riusciti abbastanza in certezza, allora afferro gli alluci con tutte e due mani. Sollevo sul busto e ripeto ancora una volta. Solo che questa volta la mano sarà sulla luce. Sollevo la gamba destra, fisso il punto, tiro indietro, stendo la gamba e riporto a terra. Quindi con l'altro lato, fisso il punto, stendo su, porto indietro, ops. Stendo la gamba e riporto a terra. Ok? Benissimo. A questo punto possiamo prendere il piede destro, sollevarlo e portarlo indietro. Portare la mano sinistra sulla caviglia, la mano destra sulla caviglia all'esterno e di nuovo porterò verso la fronte la caviglia. Prova, Antonella, a non fare così. Dai! Tentare non muoce. Ok, torno, cambio. Ma in realtà, molto bene. Qui la tentazione di chiudere il ginocchio è forte perché mi viene voglia di fare questo. No? Chiuderemo in questo modo. Invece devo cercare di mantenere il ginocchio aperto e il torace che si apre verso l'alto e portare il più possibile poi in questo. Provare. Ottimo, Antonella, così si fa. Brava. Oh, brava, Lina, così. Molto bene. E torno. Ok, vi faccio vedere allora come andiamo oltre. Se avete il supporto, rimanete sul supporto. Se state senza supporto, state senza supporto. Sollevo, porto indietro, mano sulla caviglia, l'altra mano questa volta va sotto il polpaccio. Così, sotto il polpaccio. E la gamba diventa l'altra corda della borsa. E quindi, espirando, me la porto sulla spatola. Così. Ok? Quando faccio questo, talono in ammendamento e porto giù la mano a terra. Il ginocchio va a chiudersi sulla spatola. Ok, andiamo con l'altro lato. Forza, vengo su. Porto indietro, mano giù sotto la gamba e poi me la porto sulla spalla. allungo il tallone, stringo il ginocchio, metto l'altra mano a terra. E poi sciolgo. Ok. Adesso, dalla posizione dove state, mani a terra, davanti al bacino, non dietro. Cioè, non in linea, non dietro, davanti al bacino così. Sì? Non importa se state sul supporto, va bene anche sul supporto. L'importante è essere leggermente reclinati in avanti. Ok? Ok? E espirando, tiro su una gamba. e tengo. E giù. E poi faccio l'altra. E poi faccio l'altra. Come una e poi con l'altra. Bene. E adesso mettiamo tutto quanto insieme. Quindi, sollevo, porto indietro. Uno. Ah, guardate un attimo questa cosa qua. È importantissima perché sennò farete alcun errore. Voi dovete solo continuare a fare le azioni. Quando io porto questa indietro, la metto sulla spalla e la metto qua, vedete che all'inizio il ginocchio è proprio sopra la spalla. Quando lo lascio, un pochino scivola, ma se tengo con la gamba, non va mai oltre il gomito. Ok? Quindi non vi preoccupate. Continuate a tenere con la gamba. Tenere con la gamba significa soltanto stringere il ginocchio intorno al braccio. Guardate, adesso come si fa in posizione finale. Quindi sollevo. Uno. Due. Tre. Quattro. Stringo. L'altra mano a terra. Stacco. E giù. Forza. Brava, Lina. Vai, batti. Così. Ok. Molto bene. Manco un lato. Tiro su. Porto indietro. Sotto. Melamento sulla spalla. A terra. Stringo. Tengo. Tallone in allungamento. E tiro su. Bravissime. Maria Rita. Ok. Allora, adesso non è finita. C'è l'ultima posizione delle ultime posizioni dell'ultima posizione. Ok. Qui voglio che voi vi sentiate proprio liberi di dare il massimo. Per cui. Adesso ve la faccio vedere. Due volte. Una volta di lato. Una volta da lato. Ok. Allora. Da davanti. Piedi uniti. Piedi uniti. Piedi uniti. Parto da sopra. Espiro. Piego le ginocchia. Le allargo. E scivolo giù. Col busto tra gli altri. Voglio andare a portare la spalla sotto al ginocchio. Stringo le ginocchia. E stacco. I piedi. Ok. Faccio vedere un attimo anche di là. Visione laterale. È molto importante per capire come uscire. Allora. Quando lo faccio di lato. Capirete due movimenti che sono essenziali. Inizio è rientrico, no? Quindi allargo. Espiro giù. E porto la mano dietro. Ma. Capisco una cosa. Il bacino resta su. Se io scendo col bacino. Sarà difficile riuscire a finire. Ok. Quindi il bacino resta sul più possibile. E la testa laggiù. Perchè se tengo sulla testa. Ancora una volta sarà difficile riuscire a portare le spalle sotto. Quindi la testa giù. Le spalle sotto. Guardate le mani. Sono dietro. E stacco. Ok. Proviamo, dai. Forza Alina che ti vedo proprio forte. Dai. Piedi uniti. Braccia stese. Espiro. Piego le gambe. Separo le ginocchia. E scivolo giù. All'interno. Una spalla alla volta. Sotto. Stringo e stacco. Sotto. Ecco. Avatti. Vai. Brava Alina. Ottima Maria Rita. Vai Anto. Sotto. Ok. Allora. So che siete stanchi. Provatela solo un'ultima volta. Un'ultima volta. Un'ultima volta. Brava Alina. Così. Testa giù Alina. Testa giù. Ok. Stringi le ginocchia e porta i gomiti all'esterno. Ok. Brava. Molto bene. Anto. Non si fa. Ok. Adesso ci sdraiamo a terra e teniamo le ginocchia con le mani. Passiamo alla fase super rilassante. Questo è un momento molto importante. È l'inizio dello Shavasana. Ed è il momento in cui parlo al mio corpo. E glielo dico. Guarda. Adesso. Adesso il momento della fatica è finito. È il momento che ti do per recuperare tutte le tue energie. per lasciare che quei movimenti che ci sono stati possano terminare le loro azioni. In modo che tra cinque minuti il corpo sarà di nuovo fresco, libero e sereno. Prendo le ginocchia verso il torace, mi dondolo un pochino a destra e a sinistra. Se voglio posso prendere con le dita gli alushi e andare in Anandambalasana e dondolarmi ancora un po'. Bravissime. Così. E poi mi preparo per lo Shavasana. Quindi se posso stendo subito le gambe a terra. Se sento che ho bisogno di ancora un po' di riposo posso tenere le gambe piegate. ma in ogni caso ruoto il bando della mano in su e lascio le braccia un po' aperte rispetto al corpo. Almeno 30 gradi. Questo fa sì che la spalla si possa rilassare. E adesso inizio a osservare il corpo partendo da piedi e risiedendo su verso la testa. Tra le zone più distanti mi avvicino lentamente verso il centro del corpo prima e verso la testa dopo. Mentre faccio questo percorso lo faccio lentamente, osservo il corpo, osservo quello che ha sentito il corpo. Mi comunico che adesso è tutto a posto, può rilassarsi e lo comunico attraverso il respiro. Ogni volta che incontro una tensione, so che mantenendo gli occhi chiusi e espirando lentamente due o tre volte, questa tensione, se la osservo, potrà solo sciogliersi. Muovo la mia attenzione lungo il corpo lentamente, dalle zone più periferie verso la zona centrale, abbandonando ogni tensione, mano a mano che proceda. Se necessario ripeto il percorso due o anche tre volte. Se quando respiro sento che nell'addome c'è qualche tensione che fa resistenza al naturale movimento del diaframma, porto ancora la mia attenzione lì e faccio sentire al corpo che il respiro muove in una direzione sia durante l'ispirazione che durante l'ispirazione. una direzione a cui il corpo fa seguire il proprio movimento, diventando un'unica cosa con questo respiro. Un respiro che si manifesta con i suoi due movimenti alternati, come un'onda che a ogni suo passaggio aumenta la quiete e la stabilità del corpo. E allora ogni volta che inspiro l'aria entra nel torace, dalle narici ma anche richiamata dalle braccia e dalle gambe e ogni volta che respiro l'aria esce dal torace, dalle narici ma anche in una direzione verso le braccia e le gambe. spiro e le energie si muovono verso il centro dell'attorace e spiro e le energie si muovono verso le zone più lontane. spiro e poi lentamente piego le gambe una alla volta. vuoto su un fianco vengo su e mi metto a sedere. gambe incrociate, gambe incrociate, schiena dritta, testa rilasciata in avanti e infine inspirando alzo la testa e apro gli occhi. buona serata a tutti. non riesco a togliermi il mutuo quindi me lo potete togliere da soli. non riesco a togliere da soli. grazie 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 grazie